Con questa mia dirvi che voi vi consolate, dai dispiacere, dai dispiacere che avrete... Fai presto! Aaaaaah! Chi è stato? Eh, lo so io! I auguri annunciano in tempo orale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché voglia di niente, il maestro è andato via. Grazie a tutti!